ahahahahah nooo perchè è visto? mi fa fiumare fuori i gnocchiali cazzo ti ha messo vai cazzo vai vai no facciamo un mini vlog hai deciso di fare questo o due metri? questo fa ridere è la più difficile c'è Amba e Luca siamo in piazza Venezia io quindi sono in ritardo quindi iniziamo tutto per favore non ridere ahahahahah per favore non ridere il cotto ok la parte più difficile di questo video sarà non ridere ok ok Vai in serio! Che è stato! Che figata! Non avevo mai fatto esplorare una bottiglia Questo trick È costato Uno sbriega Una bottiglia Più un altro E anche questa è ridotta male Ha 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 fatto utile In seconda delle mie tre tre prese Guarda che sole Questa c'è una luce stupenda No sole no Non è possibile Mi sono inzappato tutto il mio stesso piede Mi sono inzappato tutto il mio stesso piede Come avete visto anche il video principale Scrivetelo nei commenti E siete dei grandi Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale